Buongiorno a tutti! Allora, oggi piatto ricco micifico, girerò due video se riesco. Siamo tornati alla tovaglietta rossa, siamo ancora in montagna, siamo scappati dalla pianura perché faceva veramente troppo troppo caldo e quindi niente, avete ancora come sfondo la tovaglietta rossa. Spero che vi piaccia comunque, anche se non è proprio esoterica come la tovaglia che c'era nello scorso video, ma non importa, insomma, quello che conta poi è la ciccia. Allora, oggi siamo qui riuniti per vedere le energie di agosto, oggi è l'ultimo giorno di luglio e quindi vediamo appunto le energie di agosto. Ho anche i charms, me li sono portati dietro, così vediamo anche quelli. Per farvi scegliere però ho estratto tre conchiglie, sono estratte a caso, sotto c'è un simbolo ma lo vediamo durante la lettura. Adesso voglio proprio che scegliate in base a quale conchiglia vi attira di più. Quindi per il gruppo 1 abbiamo questa conchiglia qua, spero metta a fuoco. Per il gruppo 2 abbiamo questa conchiglia qua. Per il gruppo 3 abbiamo questa conchiglia qui. Quindi scegliete veramente il più intuitivamente possibile quale conchiglia. Fortunatamente ho estratto tre conchiglie molto diverse tra loro, quindi secondo me la scelta non sarà così difficile. Sicuramente c'è una conchiglia che vi attrae di più tra le tre. Se dovesse essere attratti da più di una conchiglia non vi preoccupate, potete ascoltare una, due o tutte e tre destese e semplicemente trattenere quello che sentite che risuona per voi. Ovviamente sono stese generali, quindi insomma non potrà risuonare tutto completamente. Io dirò una serie di cose e appunto voi trattenete quelle in cui sentite che vi ritrovate. Vado a spostare il gruppo 3 e il gruppo 2 e lavoriamo con il gruppo 1. Gruppo 1 se avete scelto questa conchiglia qua, vediamo cosa c'è dietro. Oh wow, il simbolo del dollaro! Quindi soldi, abbondanza, molto bene! La mettiamo qui, vediamo le carte cosa ci dicono. Partiamo sempre dalle carte dei tarocchi, poi vediamo le altre. Allora abbiamo sette di pentacoli, non mi stupisce visto il simboletto, regina di spade e tre di coppe. Molto bene, vi posso dire che il mese di agosto è un mese già che si prospetta molto molto promettente, molto molto interessante, ma soprattutto un mese di grande divertimento, grande discernimento, grande cognizione di causa in tutti i sensi. Nel senso che non solo siete molto centrati, allora il mese inizia con voi che vede, scusate, sentite i motorini, purtroppo qui è così, l'audio è quello che è. Ripeto, il sette di pentacoli è una carta dove vi vede molto centrati, farete, secondo me, inizio agosto un po' il punto della situazione. Cosa avete ottenuto fino adesso, cosa potete ancora ottenere, cosa pianificare da settembre in poi, quindi molto bene. Per alcuni di voi c'è proprio un raccogliere i frutti di quello che già avete coltivato, vedete questo fiore che sboccia. Quindi alcuni di voi avranno appunto delle rendite o dei soldi in più, non lo so, mi viene in mente tredicesima, anche se sarà tredicesima, spero di Natale, però dei bonus, delle vincite, non lo so, c'è qualcuno che ritirerà dei soldi, cioè gli arriveranno dei soldi extra. Alcuni invece appunto faranno proprio il punto della situazione, ma i frutti che avete raccolto fino adesso sembrano essere piuttosto buoni. Poi abbiamo un mese, verso metà mese avrete questa energia, se vogliamo, femminile. Potrebbe essere anche una donna o una persona con uno spiccato a senso femminile che vi aiuta in qualcosa, ma vi aiuta più che altro a fare chiarezza nella vostra mente. Quindi verso metà mese c'è proprio questo aprirsi, aprirsi del vostro cervello, aprirsi del vostro terzo occhio. No, sarete assolutamente ricettivi, brillanti, sagaci, utilizzerete l'intelligenza veramente su diversi fronti. E infatti poi abbiamo una chiusura del mese molto bella, perché qui abbiamo dei festeggiamenti. Qui c'è proprio la sfera emotiva che gode un sacco. E quindi niente, fine mese, festeggiamenti, non so se sarete in vacanza, quindi probabilmente vi divertirete, o se passerete insomma da Ferragosto in poi, ci sono due settimane veramente all'insegna del divertimento, della goliardia, della leggerezza che non significa superficialità, proprio del divertimento. Quindi un mese che direi, ci metterei la firma, vediamo le altre carte. Allora, qui abbiamo nuvole, piccolo successo negli affari. Interessante questo piccolo successo negli affari sotto il sette di pentacoli con anche il riferimento della conchiglia, perché appunto alcuni di voi potrebbero avere successo. Ma i fulmini qua non li vedo tanto come una tempesta, ma li vedo proprio come un successo inaspettato, ok, come un qualcosa che arriva, in realtà il cielo è sereno, qualcosa che arriva c'è il sereno, quindi appunto una rendita, una vincita, un lascito, non lo so, qualche entrata extra. Per alcuni di voi potrebbe essere anche un collega, vabbè, qua c'è scritto piccolo successo negli affari, quindi nel lavoro, magari anche in borsa, la borsa in questo periodo, vabbè, non è che proprio sia il top dei top. Io non me ne intendo molto, ma insomma quando leggo che ci sono, quando c'è la borsa a zero o in calo, insomma non è che proprio sia il top. Detto ciò però, per alcuni di voi invece, ad alcuni di voi invece potrebbe andare bene, magari vendete delle azioni, vendete dei titoli e vi entrano appunto delle rendite. Questa carta esce, di questo mazzo esce, sta uscendo veramente tantissimo. Allora, questo mazzo è irriverentissimo, bisogna saperlo leggere. Comunque questo è un 9 di spade e dice, finalmente la vecchia è morta. E io la vedo, esce tantissimo, ma perché? Perché normalmente l'estate è un periodo dove, un po' complice le vacanze, un po' complice il fatto che magari rilassiamo la mente, lasciamo andare un sacco di cose. Quindi è per quello che questa carta esce un sacco. Io vedo in questo gruppo come se in realtà questa regina di spade, e abbiamo un 9 di spade, quindi ancora un collegamento con la testa, 9 di spade normalmente si rifà alle nostre angosce, alle nostre paure, ai nostri incubi, se vogliamo, la notte. Qui finalmente la vecchia è morta, come dire, finalmente ci liberiamo appunto di tutta questa pesantezza, di tutti questi pensieri negativi, di tutta questa materia grigia in testa che in realtà ci opprime. Quindi vedo proprio questo lasciare andare. E poi abbiamo l'angelo del mese, vediamo l'angelo del mese, l'appeso nel Cael, non so se si pronunci così, chiedo scusa, desiderio di conoscenza, protezione dai bugiardi, dalle maledizioni cattive, dagli incantesimi cattivi e dagli spiriti cattivi. Infatti qua abbiamo sotto il festeggiamento, abbiamo questa carta. Probabilmente non sarà un fine mese non attivo, non particolarmente attivo, ma c'è proprio questa serenità di base, ma perché secondo me avete risolto prima già tutto quello che riguardava il lavoro, tutto quello che riguardava la vostra libertà dai pensieri negativi o dalle zavorre, e quindi poi le ultime due settimane ve le godete veramente appunto magari in panciolle, in spiaggia, quindi non sarà appunto un fine mese molto attivo proprio per questo motivo, ma è all'insegna proprio della serenità e del benessere. Va bene, vediamo i vostri charms. Allora, gruppo 1, scusate, mi metto un po' più in qua. Gruppo 1 agosto, gruppo 1 agosto 2022. Cosa succederà in agosto 2022? Allora, gruppo 1, cosa succederà in agosto 2022? Wow, c'è tantissimo! Allora, vediamo un po'. Numero 10, numero del compimento. Compimento di qualcosa, quindi non mi stupisce perché qui avevamo la regina e il 9 di spade. 10, il fatto di finalmente finire qualcosa, liberarsi di un qualcosa che vi stava sulle palle, liberarsi anche di un qualcosa che avete iniziato magari anche tanto tempo fa, abbiamo l'anello tribale, quindi è qualcosa che veramente vi portavate appresso da tanto tanto tempo. Ovviamente l'anello tribale potrebbe anche riferirsi a un legame karmico, quindi alcuni di voi potrebbero in realtà trovare, ritrovare una persona, avevamo qui comunque una donna o comunque una figura con uno spiccato senso femminile, quindi una persona che in realtà vi aiutava, vi aiuterà in agosto, quindi potrebbe essere anche questo. Abbiamo delle lettere, abbiamo una A, abbiamo una D e abbiamo una P. A, D e P. Non lo so, fatemi sapere se siete di Padova. Pad potrebbe anche voler dire lavorare sull'iPad o divertirsi sull'iPad, non lo so, le lettere io non le interpreto più di tanto perché sta un po' a voi vedere cosa vi significano. Però la cosa bella è che abbiamo delle bellissime emozioni con l'armonia. L'armonia, la serenità, quindi c'è proprio questo sentore nell'aria, in questo agosto, che in realtà per voi sarà un mese molto bello, perché sarà un mese proprio rilassante, sereno, avete proprio voglia di lasciare andare tutto il resto e si vede, si percepisce questa cosa. Sì, abbiamo la targhetta qua dell'erbolario, quindi anche i sensi, è come se anche i sensi venissero un po' risvegliati in questo agosto, no? Magari lavorare con le erbe, iniziare a fare le tisane per l'autunno prossimo, o anche solo il connettersi con la natura, quindi questo è sicuramente molto molto bello e interessante. Abbiamo un'attitudine di gratitudine porta opportunità e infatti secondo me avrete delle opportunità, venivano proprio fuori all'inizio del mese, avrete delle opportunità in questo mese di agosto che comunque si prospetta un mese tranquillo, un mese sereno, ma appunto con opportunità e grande lavoro mentale, grande esame mentale da parte vostra che risolverà secondo me un sacco di cose. Va bene gruppo 1, spero di esservi stata utile, spero che questo vi avvicino un pochino i charms, così li vedete bene, spero che questo video vi sia stato utile, spero che il mese di agosto sia un mese bellissimo per voi, e vi ringrazio per essere stati qua con me, vi mando un bacione, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ok, gruppo 2, se avete scelto questa bellissima conchiglia qua, vediamo cosa c'è dietro l'angelo, va bene! Protezione dall'alto, direi che questo agosto parte già molto molto bene. Vediamo le carte dei tarocchi, cosa ci dicono? Uh, gli amanti! Bene, iniziamo con l'amore universale, ma d'altronde abbiamo l'angelo anche qui, sembra lo stesso angelo, quindi non mi stupisce affatto che questo mese per voi sarà veramente all'insegna dell'amore in tutti i sensi. Vediamo poi le altre carte, ma io so già che infatti... Mese strepitoso ragazzi, strepitoso perché? Perché innanzitutto questo è un arcano maggiore, quindi proteggerà tutto il vostro mese di agosto, e gli amanti, lo dico sempre, il numero 6 è in realtà il numero dell'amore universale, quindi non è solo la coppia, poi per carità per alcuni di voi potrebbe essere che in agosto trovate l'anima gemella o consolidate i sentimenti verso la persona amata, ma qui c'è proprio l'abbraccio dell'universo, quindi questo mese è già benedetto di per sé e infatti abbiamo verso metà mese un bellissimo inizio. Inizio, lasso di bastoni, ci parla di qualcosa di bello che vi fa ribollire il sangue, una vostra passione, un qualcosa che magari è tanto tempo che avete voglia di fare o magari avete già intrapreso ma finalmente sta dando i frutti, quindi magari siete artisti e finalmente state vedendo, che ne so, le rendite della vostra musica venduta online o che ne so, siete ballerini e siete presi per un contratto a settembre, non lo so, mi vengono in mente tutte queste cose qua, ovviamente vabbè io sono artista, quindi mi vengono in mente cose d'artisti, ma potrebbe benissimo essere anche altro nella vostra vita, ovviamente questo lo sapete voi, però questo è un bellissimo inizio, cioè a metà mese, a ferragosto, c'è proprio come se iniziasse un po' una nuova vita o comunque un nuovo percorso, è ovviamente un percorso bello, vedete i germogli che spuntano, quindi bellissima questa energia, infatti poi abbiamo un 6 di coppe il 6 di coppe in realtà ci parla di una bella emozione, un'emozione innocente, l'emozione è quella che provano i bambini quando vedono una cosa per la prima volta che gli piace tantissimo, quindi c'è proprio questo tipo di energia, bella, pulita, pura, innocente, per alcuni di voi potrebbe essere una malinconia nei confronti del passato, ma una bella malinconia, magari rivedrete il cugino che non vedete da tanto tempo, con cui giocavate quando eravate piccoli, o magari rivedrete qualcuno che era tanto tempo che non rivedevate, insomma ci sarà qualche situazione che rivangherà quel tipo di bella malinconia, però un mese veramente appunto all'insegna dell'amore in realtà, perché qui abbiamo l'amore su carta, gli amanti, poi abbiamo l'amore per una passione, l'inizio di una relazione con una vostra passione, e poi abbiamo l'amore per una qualche situazione passata, quindi proprio un bellissimo quadro. vediamo le altre carte. Spada, eredità, ok, io devo dire la verità che questa carta la vedo ancora una volta come un asso di spade, più che un'eredità, che in realtà per carità può essere che a qualcuno di voi verrà lasciata un'eredità di qualcosa, qualcuno che vi ama molto vi lascia qualcosa, però per alcuni di voi potrebbe seguire questo asso di bastoni con anche un asso di spade che indica chiarezza mentale, anche vittoria se vogliamo, quindi qualcosa che vi darà grande soddisfazione. Uh, ok, abbiamo un re, non vi spaventate, questo mazzo è un po' gotico, un po' irriverente, però abbiamo un re di, una regina, scusate, una regina di spade, curioso che la regina di spade è uscita anche nel primo quadro, nel gruppo numero uno, regina di spade, ancora una volta ci colleghiamo con la mente, ve lo dico proprio fuori dai denti, perché quello che questa immagine mi suggerisce, sarete in grado di far crescere qualcosa, se siete giardinieri, per favore, perché qua con la crescita di foglie, la crescita del tulipano, mi viene proprio questo tipo di energia, per favore, scrivetemelo se siete giardinieri, scusatemi, non può da ridere, da sorridere, però sì, è come se foste in grado di far crescere qualcosa, e questo con le vostre abilità mentali, quindi c'è un'idea qui, c'è un'idea, c'è un, non solo un'idea, c'è un'idea che è già sviluppata in progetto, e con agosto, metà agosto, avrete tutto pronto per far partire questo progetto, quindi molto bene, c'è un'azione qua, c'è proprio, non è uscito il mago, ma l'energia che io sento è proprio quella del mago, quella di iniziare qualcosa, finalmente siete pronti per farlo. Vediamo l'angelo del mese, quattro di coppe, vabbè, qua dice Melahel, è l'angelo del mese, il dio deflecting evil, quindi il dio che sconfigge il male, capacità guaritrice, protezione dalle armi, e sicurezza in viaggio, niente male, perché la sicurezza in viaggio in agosto, specialmente per chi parte, per chi va in vacanza, sicuramente vi servirà, quindi sappiate che c'è questo tipo di protezione, tra l'altro, la protezione vi era uscita anche all'inizio, verso proprio gli ultimissimi giorni, tipo 30 di agosto, proprio gli ultimi giorni di agosto, potreste sentire dell'insoddisfazione, ma secondo me è più un'insoddisfazione dovuta alla noia, che non a qualcosa di reale, questo ve lo dico, non è certo che succeda per tutti voi ovviamente, però per alcuni di voi ci potrebbe essere questa cosa, non vi preoccupate, secondo me è solo che vi sarete probabilmente riposati troppo, o avete voglia di iniziare subito questa cosa a settembre, quindi insomma c'è questo tipo di energia, va bene, vediamo i vostri charms, allora, aspetta che mi metto di qua, che io sono mancina, allora, gruppo 2, gruppo 2 agosto 2022, gruppo 2, agosto 2022, gruppo 2, agosto 2022, gruppo 2, oh mamma c'è tantissimo, vediamo un po', allora, segno dei gemelli, se siete dei gemelli, fatemelo sapere, potrebbe anche riferirsi all'anima gemella, visto che abbiamo qua gli amanti, potrebbe riferirsi a qualcuno, a qualcuno intorno a voi, che è del gemelli, ragazzi abbiamo ben due, mazzi di chiavi, quattro chiavi, quattro chiavi, queste vi aprono la porta, della stabilità, vi aprono la porta, del sistemarvi, vi aprono un sacco di porte, in realtà, grandissima energia, veramente, altro che, c'è questo progetto, che ci avete in corso, secondo me, è veramente molto interessante, perché qui, c'è veramente tantissimo, è uscito il mago, il numero uno, e doveva uscire, evidentemente, infatti c'è proprio l'energia del mago, l'energia dell'azione, l'energia del rimboccarsi dei mani, che mettersi al lavoro, e ottenere, subito proprio così, abbiamo tanto divertimento, abbiamo la spiritualità, però sì, c'è il lavoro, c'è la fortuna anche nel lavoro, lavoro uscito addirittura con due charms, e c'è il lavoro passionale, il rosso, il colore della passione, quindi qualcosa che veramente vi piace, qualcosa in cui state mettendo veramente la vostra anima, abbiamo la lettera G, la lettera chiaramente la interpretate voi, però ragazzi, energia del mago a mille proprio, cioè siete super lanciati proprio in questa cosa, molto bene, perché qui abbiamo veramente il mazzo di San Pietro, di chiavi, quindi veramente vi può aprire qualsiasi porta, siete molto protetti, c'è proprio questa protezione dall'alto, anche forse vi spingono anche dall'alto, non lo so, c'è qualcosa che è destino che dobbiate fare, va bene gruppo 2, spero di esservi stata utile, spero che questo messaggio vi sia arrivato bene, ovviamente spero che passerete insomma un agosto meraviglioso, io vi ringrazio per essere stati qua con me, vi mando un bacione enorme, noi ci vediamo al prossimo video, ciao! ok gruppo 3, se avete scelto questa conchiglia qua, oh c'è una nuvola dietro, va bene, avete la testa per aria in questo periodo, siete sognatori, potrebbe essere anche questo, è agosto, è estate, ci piace sognare, ci piace anche cercare di prevedere quello che succederà da settembre in poi, vediamo le vostre carte dei tarocchi, abbiamo cavaliere di spade, poi abbiamo 10 di spade, e poi abbiamo urca, tutte spade, 4 di spade, ammappate, allora, non vi spaventate, perché in realtà secondo me è una buona stesa, e vi spiego anche perché, siete in movimento, siete in movimento, siete alla ricerca di una qualche verità, o alla ricerca di una qualche scienza logica, non lo so, state facendo un percorso di questo tipo, come se fosse alla ricerca di qualcosa, qualcosa che in realtà avete voglia di conoscere, di sapere, magari state studiando, c'è questo tipo di energia, siete comunque in perenne movimento, e cosa succede? Che questo perenne movimento vi porterà a, ci sono due strade qua, o a compiere qualcosa, arrivare alla fine di un viaggio, arrivare alla fine di un qualcosa che vi verrà rivelato a metà agosto, oppure a capire perché è successo qualcosa nel vostro passato, ok? Quindi c'è questo tipo di energia, è come se foste un po' inquieti, e avete bisogno di capire determinate cose, può essere? Bellissimo però da ferragosto in poi, questo quattro di spade, perché in realtà vi riposerete, qui c'è proprio il riposo, riposo assoluto, probabilmente andrete in vacanza, non lo so, però nel momento in cui capirete, perché il 10 è la conclusione di questo viaggio, è l'aver capito perché, e quindi vi chetate, vi calmate chiaramente, perché è come se, ok ho capito perché è successa questa cosa, adesso mi posso riposare, quindi c'è proprio questo tipo di energia, non vi fermerete, finché non avrete concluso questo qualcosa, questo qualcosa che è legato comunque a un vostro stato mentale, quindi potrebbero essere anche delle ricerche olistiche, la mente, la nostra mente è ciò che di più complesso ci sia, quindi difficile stabilire in due carte, effettivamente di cosa si possa trattare, però probabilmente io che sto parlando a voi, insomma voi magari se vi ritrovate, lo sapete voi, qual è questo il vostro percorso, qui abbiamo un sole splendente, il trionfo dell'amore, che meraviglia, il sole però è anche la chiarezza, quindi la chiarezza, il calore, e quindi qua c'è proprio, ci sarà un rischiaramento mentale, forse dopo questa nuvola, di fine luglio, ci sarà il sole che torna, proprio perché voi capirete, comprenderete, tutta una serie di cose, che avete cercato, non so come dire, di cui siete volenterosi, di capire effettivamente come sono andate le cose, cosa è successo, perché è successo, quindi c'è tutta una situazione di questo tipo, uh che bello, fantastico, qui abbiamo un 9 di coppe, i drunken fools, gli sciocchi ubriachi, questo mazzo è riverentissimo, ve lo dico sempre, bisogna saperlo leggere, però il 9 di coppe, il 9 di cuore, ci parla di una grandissima soddisfazione emotiva, di un appagamento, anche di appagamento sessuale, vabbè qua ci sono gli ubriachi, che si stanno divertendo, però c'è proprio questo tipo di energia, di divertimento, abbondanza, appagamento, ma proprio emotivo, suino, non so come dire, quindi questa cosa che si conclude, vi darà una soddisfazione incredibile, ma incredibile proprio, quindi mi fa molto piacere per voi, e poi abbiamo l'angelo del mese, e il matto, behuia, ok, niente, nuovi inizi, che dire, qua c'è, si chiude un ciclo, e la carta ultima, è il matto, che è colui che inizia un nuovo viaggio, quindi, finirete un ciclo mentale, non indifferente, c'è un qualcosa che veramente vi, non dico vi ossessiona, però insomma, vi, vi macina in testa, concluderete questo viaggio, dopodiché da qua, grande soddisfazione, grande gioia, riposo, perché vi riposerete, e poi riprenderete, alla grande, questa stesa è veramente chiarissima, quindi non è che c'è molto da dire, riprenderete alla grande, con la voglia di, rimettervi in gioco, la voglia di, rischiare, anche se vogliamo, la voglia proprio di, riprendere, non riprendere, ricominciare un qualcosa, con energia rinnovata, quindi questo è molto bello, e molto importante, le energie sono molto interessanti, specie all'inizio del mese, poi appunto a metà c'è il, il placarsi, e poi verso fine mese, ancora vi ribolle un po' il sangue, vediamo i vostri charms, allora gruppo 3, gruppo 3 agosto 2022, gruppo 3 agosto 2022, gruppo 3, io voglio andare in fondo, perché mi sento che voi, state andando in fondo a qualcosa, e quindi, gruppo 3, andiamo in fondo a qualcosa, ok, abbiamo questo che è caduto, lo teniamo, questo è un messaggio, quindi c'è qualcuno che riceverà un messaggio, questo potrebbe effettivamente anche essere un messaggero, questo cavaliere, quindi messaggio è bello, qualcosa che potrebbe essere un messaggio d'amore, potrebbe essere un messaggio, in realtà potrebbe essere un messaggio ovviamente che riguarda qualsiasi cosa, potrebbe essere anche un messaggio che riguarda questa famosa situazione, che vi occupa gran parte del vostro tempo, abbiamo ancora un 10, quindi ancora una volta anche i charms confermano questo compimento, questa cosa che andrà a metà mese a finire, a esaurirsi, abbiamo delle lettere, abbiamo una K, abbiamo una F, e abbiamo una H, la K potrebbe essere un re, quindi qualcuno di vicino a voi, voi o qualcuno di vicino a voi, che detiene l'azione, ok? O qualcuno che vi aiuta a compiere una determinata azione, abbiamo una persona amica, una persona amica che vi potrebbe aiutare a fare quel salto in avanti che vi manca di fare, appunto per concludere questa cosa, abbiamo la pietra di luna, quindi comunque grande intuizione, d'altronde le spade regnano sovrane, quindi grande intuizione di mente, grande chiarezza mentale, anche se vogliamo un pizzico di magia, c'è il lavoro e c'è il cammello, ragazzi se andate nel deserto con i cammelli, in realtà non è un cammello, è un dromedario, perché ha una gobba sola, una e mezza ne ha veramente, vabbè, se andate in Egitto o nel deserto, insomma fatemelo sapere, se intraprendete questo viaggio, però per alcuni di voi, attenzione, potrebbe essere un lavoro inusuale, quindi o questo lavoro inusuale è finalmente questo lavoro che si conclude, o questo lavoro inusuale sarà un qualcosa che inizierete a fine mese, o con settembre, new beginnings, nuovi inizi, tutto però qua presagisce a qualcosa di bello in realtà, qualcosa anche, c'è un pizzico di mistero, un pizzico di magia, un pizzico di, di non so che, questo me lo direte voi, però sì, c'è questo lavoro inusuale, c'è questa persona amica che vi aiuta a fare un balzo in avanti, che potrebbe essere anche questo messaggero, abbiamo questo messaggio molto bello che vi deve arrivare, fatemi sapere se effettivamente sarà così, un agosto comunque dedito veramente alla vostra materia mentale, tutte spade, tutto relativo alla mente, però è una buona stesa, anche perché qui abbiamo un riposo mentale, quindi questo va bene, perché se no veramente uno esplode, gli esplode il cervello, questo caldo poi, però sì, c'è questa ricerca ossessiva della verità, o di una conclusione di qualcosa, però grande soddisfazione, grande amore, grande divertimento, cioè dalla vostra ci sono anche delle energie bellissime, la mente, la mente è uscita da subito anche qua con la nuvola, la mente regna sovrana qua in questo vostro agosto, va bene, gruppo 3, fatemi sapere se effettivamente sarà così, fatemi sapere cosa andrete a compiere, se lo sapete già o se lo compirete, a metà agosto, scrivetemi a metà agosto, cosa concluderete, e anche cosa inizierete di nuovo di così strano, così peculiare, di così alternativo, perché io sono curiosissima, questo era il 10, lo rimettiamo com'era, va bene gruppo 3, spero di esservi stata utile, spero che questo messaggio vi sia arrivato bene, ovviamente io vi auguro un agosto meraviglioso, niente, fatemi sapere, grazie per essere stati qua con me, vi mando un bacio enorme, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!